Omicidio preterintenzionale perché avrebbero infirito sul corpo dell'arrestato anche quando era a terra immobilizzato. E' questa l'accusa di cui dovranno rispondere in tribunale i quattro poliziotti rinviati a processo dal GUP di Milano Alfonso Ferrara che ha accolto la tesi dei legali e della famiglia di Michele Ferrulli. L'uomo di 51 anni, Manovale Facchino, con precedenti penali anche per resistenza pubblico ufficiale e lesioni, la sera del 30 giugno scorso si trovava in via Varsavia, alla periferia sud-est di Milano vicino a un bar dove una volante della polizia intervenne perché da una casa vicina erano arrivate lamentele per i continui schiamazzi in strada. Ferrulli, stando a quanto era stato riferito in questura, quella sera era ubriaco, aggressivo e ostile. I poliziotti, secondo l'accusa, avrebbero agito con negligenza, imprudenza e imperizia ingaggiando una colluttazione ed eccedendo i limiti del legittimo intervento, percuotendo ripetutamente l'uomo in diverse parti del corpo pur essendo in evidente superiorità numerica. A richiedere il processo per gli agenti era stata la scorsa udienza il pubblico ministero Gaetano Ruta che da un'iniziale ipotesi di omicidio preterintenzionale aveva poi chiuso le indagini con l'ipotesi di cooperazione in omicidio colposo. Il GUP Alfonso Ferraro invece oggi ha deciso di riqualificare l'ipotesi di reato con quella inizialmente contestata di omicidio preterintenzionale fissando l'inizio del processo a carico dei quattro poliziotti il 4 dicembre prossimo. Grande soddisfazione da parte del legale e di parte civile della famiglia Ferrulli è un ottimo inizio, siamo davvero soddisfatti, ha commentato domenica la figlia 27enne dell'uomo Nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna, ha aggiunto, di trovare chi ha fatto indagini veloci pulite e senza voler nascondere nulla a nessuno.